Maturità digitale per un'azienda vuol dire sentirsi pronta, essere strutturata per poter iniziare ad intraprendere il percorso verso la digitalizzazione dei propri processi. Prima di poter definire la propria roadmap implementativa, prima di poter definire le azioni pratiche da cui partire per poter migliorare il proprio stato attuale, ogni azienda deve partire individuando e sfruttando le proprie peculiarità, le proprie caratteristiche e quindi analizzare la maturità digitale vuol dire capire qual è il punto di partenza, lo stato attuale delle pratiche e dei processi interni ad un'azienda e che le consentono di essere strutturata così com'è per poi poter definire quello che è il proprio percorso personale creato su misura a partire dalle proprie peculiarità e dalle proprie caratteristiche.